Buongiorno amici di Bet Italia Web, buon venerdì, un caldissimo venerdì, puntata numero 21 del Bet Italia Web e il show che ogni giorno dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia per la giornata delle scommesse sportive andando a vedere l'edicola, calcio e mercato, le notizie più importanti, i risultati di ieri e la lavagna con gli eventi da non perdere oggi. Oggi però direi, ultima puntata della settimana, poche parole, tanti fatti nel senso, andremo come sempre a vedere le notizie di riferimento, ma vi daremo anche nella parte conclusiva ben 5 free pick che abbiamo studiato in esclusiva per voi, per gli ascoltatori del podcast, le trovate solo qui, sono 3 raddoppi sul calcio studiati da data e 2 giocate sul basket, gli europei femminili che sono iniziati ieri, studiati da insider. Già ieri insider ci aveva dato lo spunto della vittoria del Belgio contro la Russia, così è stato, l'avevo accennato velocemente, non è neanche una free pick che mettiamo, che consideriamo e conteggiamo. La free pick ufficiale era sul calcio, ci è andata molto bene, permettetemi il termine, abbiamo sculato perché avevamo agli europei under 21, 1x della Spagna assieme alla vittoria nei 90 minuti della Germania, che se non avete seguito ne parliamo dopo, ma nel finale i tedeschi nel tempo di recupero con due punizioni l'hanno ribaltata, quindi ci è andata abbastanza bene. Ma iniziamo subito con le notizie più importanti di calcio mercato, partiamo dalla gazzetta dello sport, Donnarumma i saluti, decolla il mercato del Milan, si apre con Gigio rifà il Milan, preso Theo Hernandez dal Real a 20 milioni, con Donnarumma il PSG, ci sono Areola e i soldi per Andersen e Torreira o Pratt. Questo secondo la gazzetta dello sport, si parla anche dell'Inter, ancora Lukaku si avvicina all'Inter, prestito biennale da 10 milioni di euro e obbligo di riscatto a 60, sarebbe questa la prima offerta dei nerazzurri secondo tutto sport, la valutazione iniziale dello United era di 89 milioni per Lukaku, quindi vedremo come finirà questo affare di cui parliamo da tempo. Infine la Juve è pronta a cedere Iguaina alla Roma, secondo il Corriere dello Sport, si parla di un prestito neroso di 12 milioni, la trattativa è in piedi, il Pipita ha aperto a questa cosa, vedremo anche qui nelle prossime ore che cosa succederà. Andiamo a vedere i risultati di ieri perché ci sono diverse cose di cui parlare, abbiamo detto Under 21, siamo stati fortunati, avevamo la vittoria della Germania nei 90 minuti, è finita 4-2, ma fino al novantesimo il punteggio era fisso sul 2-2, poi due punizioni nel recupero hanno sancito la vittoria della Germania che vuole in finale, finale che si giocherà domenica, in finale si ritroveranno contro la Spagna, la Spagna ha travolto la Francia per 4-1 ieri sera, le Furie Rosse sfideranno la Germania, straordinaria prova di forza della squadra di De La Fuente che si impone in rimonta, Matteta porta i vantaggi blu su rigore, Roca firma il pareggio e prima del riposo Oiar Zabal segna il vantaggio ancora su penalty, a inizio ripresa Danny Olmo, Cal Altris su assist di Fabian Ruiz e poi definitivo poker di Major Hall. Dicevamo domenica sera alle ore 21, finale degli europei Under 21, per la vittoria la Spagna è favorita a 1-60, la Germania si gioca a 2-20, andando a vedere le quote nel dettaglio, un x2 troviamo vittoria della Spagna nei 90 minuti a 2-0-5, pareggio a 3-60, vittoria della Germania a 3-50. Attesa una partita da gol perché over 2,5 si gioca a 1-70 e il gol-gol si gioca a 1-60. Passiamo al femminile, l'Inghilterra vola in finale, Norvegia travolta per 3-0, le ragazze di Phil Neville centrano la quinta vittoria in altre tante partite in questo mondiale e si qualificano per la semifinale, battuta 3-0 con pieno merito una Norvegia apparso un po' in debito d'ossigeno. L'Inghilterra in semifinale attende ora la vincente di Francia-Stati Uniti che si giocherà oggi, andiamo a vedere se troviamo anche le quote su questa partita, vi ricordo sempre sui nostri siti trovate su betitaliaweb.it tutte le analisi e i consigli. Le quote per Francia-Stati Uniti che si gioca questa sera alle 21 favoriscono le statunitensi a 2-10, la Francia si gioca a 3-50 e il pareggio a 3-25. Del resto proprio le statunitensi rimangono le favorite per la vittoria del mondiale a 2-75, segue proprio la Francia a 5, sembra quasi una finale anticipata questa, poi c'è la Germania a 5-50, l'Inghilterra a 5-50, l'Olanda a 9, l'Italia a 15, la Svezia a 22. Olanda che domani sarà la nostra avversaria ai quarti di finale, un'avversaria davvero ostica, le quote 1x2 infatti favoriscono le olandesi a 2-15, le nostre azzurre sono date a 3-50, il pareggio a 3-30. Passiamo anche alla Coppa d'Africa, Algeria vittoria al primo posto nel girone, Senegal KO 1-0 decide Belaili, fra l'altro primo posto importante che serve per non incappare eventualmente nell'Egitto, Egitto che è favorito a 4 di quota per la vittoria di questa edizione della Coppa d'Africa, segue proprio il Senegal a 6, la Nigeria a 8, la Costa d'Avoria a 9, poi abbiamo Algeria e Marocco a 10, Ghana a 12, Camerun a 15, Tunisia e Malia a 20 e poi via via si sale molto in quota. Coppa America ancora calcio, il Brasile crema ma supera il Paraguay ai rigori, in semifinale può trovare l'Argentina, la Sele Sao non sfrutta l'uomo in più perché è stato esposto Balbuena inizio ripreso, non va oltre lo 0-0 nei 90 minuti, passando dal dischetto decisiva la trasformazione di Gabriel Jesus, abbiamo detto potrebbe trovare in semifinale per il Superclassico l'Argentina che gioca questa sera alle ore 21 contro il Venezuela, ovviamente molto favorita l'Argentina a 1,57, la vittoria del Venezuela si gioca a 6, il pareggio a 3,80. Nelle quote anteposti, il Brasile comanda sempre con una quota di 1,95 per la vittoria finale, l'Uruguay segue a 4,50, l'Argentina a 6, la Colombia a 7, il Cile a 16, molto più staccate, Peru a 30 e Venezuela che sarà in campo questa sera a 50. Cambiamo sport, passiamo al basket, ne abbiamo parlato, basket femminile, ha iniziato l'Europeo, l'Italia vince al debutto nella battaglia contro la Turchia, show di Sottana nel finale, successo importantissimo per la nazionale italiana, l'Eusordio nell'Eurobasket 2019, la formazione guidata da Marco Crespe ha superato la Turchia per 57-54 al termine di una vera e propria battaglia con protagonista le difese, il titolo MVP è di Giorgia Sottana che ha messo a segno 16 punti e si è caricata la squadra sulle spalle nel momento più importante, oggi si torna in campo, andiamo a vedere le quote se le trovo, eccole qua, l'Italia giocherà contro l'Ungheria, è favorita con meno 7,5 punti di handicap, si inizia però tra poco a mezzogiorno Repubblica Ceca-Svezia. Passiamo al tennis, Wimbledon torna Camilla Giorgi in 2019 da incubo e un infortunio mai ufficializzato, a Wimbledon si dovrebbe rivedere anche la Giorgi che dopo la breve apparizione a Eastbourne è tornata in campo per la prima volta dopo 3 mesi, nel 2019 Camilla ha messo insieme solo 10 partite perdendo le ultime 6, il problema è un polso dolorante mai però ufficializzato all'opinione pubblica, la Giorgi ha infatti dato forfait dopo essersi iscritta in ben 14 tornei, per le quote di Wimbledon il femminile inizia a giorni, ci sono già le qualificazioni ovviamente, la Giorgi è data a 100, ovviamente molto indietro, favorita la Barty a 5,75, segue la Williams a 7, poi si sale in doppia cifra con la Kerber a 10, la Vitova a 13, la Pliskova a 15, l'Osaka a 15 e la Alepa a 18, nel maschile non cambia la situazione, ci sono anche pochi aggiornamenti da dare, Diokovic favorito a 2,50, i Big 3 su Federer a 4,25, su Nadal a 6,50 potrebbe inserirsi Zizipas a 20, per l'Italia Fonini a 2,50, il migliore è Berrettini che è dato a 50 volte la pari, ora piccola pausa e poi andiamo con le free pick di oggi. Allora oggi si giocano diverse partite, c'è la Coppa d'Africa, Tunisia-Mali, Marocco-Costo-Livorio, Sudafrica-Namibia, le partite in programma, si continuano con le fasi eliminazioni del mondiale femminile, abbiamo detto c'è Francia-Usa, ne abbiamo già parlato, abbiamo già parlato anche delle partite di Coppa America, però oggi si gioca anche, c'è tanto calcio in Irlanda per esempio e in Svezia e proprio da qui vorrei partire, doppia svedese, la nostra prima free pick sul calcio, doppia svedese a 2,37 di quota e il nostro consiglio è Orebro-Helsingborg-1x per quanto riguarda la Old Svenskam, mentre in Division 1-Norra andiamo sul Karlstad, vincente, 1 fisso contro il Karlsrund, quindi ripetendo, doppia svedese a 2,37, Orebro-Helsingborg-1x, Karlstad-Karlsdrund-1, scusate la mia pronuncia su queste squadre un po'… dicevamo si gioca anche in Irlanda e anche in Irlanda Premier Division, dalle ore 20.45 tutte le squadre in campo, ci sono sei partite, ne abbiamo selezionate tre, una tripla x2 sulle favorite in trasferta che secondo noi non perderanno, è una tripla a 2,07 di quota, le partite sono Dublin-San Patrick's x2, Cork City-Derry City x2 e Finarx-Sligo-Rovers x2, quindi queste tre x2 a oltre la pari di quota, ultima free pick per il calcio, tripla mista sulle nazionali a 1,85 di quota, partiamo con Venezuela-Argentina x2 nei 90 minuti regolamentari, Francia-USA x2, anche qui stesso ragionamento per quanto riguarda il mondiale femminile, poi torniamo in Coppa America-Colombia-Cile 1x, queste tre giocate in doppia chance si scommettono a 1,85 di quota, passiamo anche al basket, come vi avevo accennato, facciamo in fretta perché si inizia tra poco, si inizia con Repubblica Ceca-Svezia, noi consigliamo 2 e la abbiniamo assieme a Belgio-Bielorussia 1, questi due risultati si giocano a 1,84 di quota, stake 2 secondo insider, sempre secondo insider una singola, Serbia-Russia 2, ovvero vittoria-Russia, quindi cambiamo sponda rispetto a ieri, ieri li avevamo giocato contro, oggi li giochiamo a favore, comunque Serbia-Russia 2 a 1,71, stake 3 per quanto riguarda la seconda pick dell'europeo di basket femminile, quindi direi di aver detto tutto, io vi saluto, oggi nel pomeriggio sicuramente ci sarà una puntata di Sport USA News & Tips con me, Guru, poi vedremo se uscirà qualche cos'altro ma fa un caldo mortale, adesso vedremo se avremo le forze per andare avanti, intanto un saluto a tutti, buone scommesse, speriamo di fare belle casse con le nostre free pick per tutti gli amici del podcast, un saluto, buon weekend che sta arrivando, buone scommesse e spuntate sempre con la testa, ciao!